E' lunedì mattina e come ogni lunedì mattina siamo dietro la nostra scrivania in ufficio a pompare il PIL dell'economia nazionale. Siamo qua a Jesolo, al mare, ieri sera eravamo lì insieme ad altre 2000 persone. Noi siamo venuti qui per capire qualcosa di più di questo genere, di questa scena, da dove viene, capire chi la balla, come la percepisce. Era un po' mi spuglio, cioè New Italo Rock mi sembra un po' troppo generico. Questa serata qua è abbastanza French Touch, dai. Non lo chiamo. Può essere in mille modi, può essere French Touch, può essere quello che Daft Punk hanno lasciato in compiuto, può essere indie rock elettronico, può essere mille cose. Io credo che l'ho solo bella musica. Quello che abbiamo capito un po' ieri sera è che c'è gente che viene dal rap, c'è gente che viene dal metal, c'è gente che viene dal rock and roll, c'è gente che viene dalla house e ognuno porta il suo background in questo collettore di stili e gusti musicali diversi. Quella di ieri è stato un episodio fantastico per più motivi, innanzitutto la location e poi comunque vedere tanta gente, perché questa scena è fatta dalla gente che dalla provincia va a caccia di situazioni. La cosa bella dell'italo disco è stata la sua fine precoce forse, è stata usata e gettata e messa in un cassetto ed è bello riscoprire certi suoni. Buone di sapone, si voleva, una manetta super buona. Buone di sapone, sì. Buone di sapone, sì.